carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore dura in eterno dio è grazia e benevolenza e questa benevolenza ti avvolge questa benevolenza rivolta verso di te anche se tu hai dei peccati degli errori questa benevolenza non si distacca mai da te perché dio non può mutare la sua natura la natura di dio è grazia ora noi dobbiamo conoscerlo così come lui è non come noi ce lo immaginiamo noi uomini possiamo cambiare possiamo corromperci possiamo essere infedeli possiamo tradire dio non tradisce mai eterna è la sua misericordia e questa visione dell'eterna fedeltà di dio ci deve toccare fratelli ci deve permeare lui è creando l'uomo ha fatto su immagini e somiglianza ha dato all'uomo una natura capace di autodeterminarsi ma non per allontanarsi da lui ma per amare ricordiamocelo sempre l'anima dell'amore e la libertà usata correttamente la libertà che non significa poter con capriccio fare quello che si vuole andando anche contro natura contro la volontà di dio quello è un errore in cui l'uomo non deve cadere non deve dimorare ma dio ha creato l'uomo perché si sottomette a lui nell'amore lo troviamo spesso nella vita dei mistici questi richiami che il signore fa all'uomo non mi interessa quello che fai mi interessa che tu ti apri al mio amore che tu accolga la mia benevolenza la mia grazia questo il signore vuole che noi apparteniamo a lui ma per amore nella piena libertà con la nostra piena totale adesione a lui abbiamo visto nei giorni passati fratelli come il signore rimproverava il popolo di israele prima poi quelli di gerusalemme minacciando anche deportazione distruzione questa è la conseguenza del peccato quando una persona con la macchina fuori strada metta a rischio la sua vita per arrivare alla meta bisogna seguire la strada una volta in una cittadina qui dell'abruzzo un giovane danno in macchina affronta una curva e io facevo spesso ma non si poteva andare più di 50 in quella curva perché ti porta fuori strada un giovane vuole affrontarla a 120 all'ora e andò fuori naturalmente persa la sua vita lui fu libero di andare a quella velocità ma quella velocità fu fatale per lui dio vuole che noi camminiamo nella libertà dell'amore nella sottomissione a lui e allora il signore ci rimane eternamente fedele a israele dio parlava dei pericoli che incumbevano su di lei seguendo una strada perversa una via di corruzione di infedeltà di deviazione bene a questo popolo che aveva sbagliato il signore rivolge le parole del profeta eseia parole di certezza di speranza e questo amore trionfa dopo la correzione il signore manifesta il suo volto e dice a questo popolo in quel tempo oracolo del signore io sarò dio per tutte le famiglie di israele ed essi saranno il mio popolo così dice il signore ha trovato grazie nel deserto un popolo scampato alla spada israele si avvia a una dimora di pace da lontano mi apparsi il signore ti ho amato di amore eterno per questo continuo a esserti fedele sentite queste parole fratelle noi dobbiamo porre come pietra miliardi sotto la base della nostra fede ti ho amato di amore eterno scoppiassi anche una guerra mondiale ma dio ti amo di amore eterno non si ritira mai da te e continuo a dirti ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata hai sbagliato nella tua vita ma dio ti riedifica hai deviato ma dio ti riedifica se sei allontanato da lui e sei in corso in sofferenza ma dio ti riedifica non ti abbandona non c'è una volontà di castigo anche la correzione che dio ci dà è sempre solo per edificarci come figli noi siamo i figli suoi e a noi lui non ci rinuncia mai perciò di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa di nuovo pianderai vigne sulle colline di samaria dopo aver piantato i piantatori raccoglieranno verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim su saliamo a Sion andiamo dal Signore nostro Dio poiché dice il Signore innalzate cante di gioia per Giacobbe e insultate per la prima delle nazioni fate udire la vostra lode dite il Signore ha salvato il suo popolo il resto di Israele perciò il salmista può dire ascoltate gente la parola del Signore annunciatela alle isole più lontane dite che ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore su suo greggio perché il Signore ha riscattato Giacobbe lo ha liberato dalle mani di uno e più forti di lui verranno e canteranno inni sull'altura di Sion andranno insieme verso i beni del Signore la Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi cambierò il loro lutto in gioia li consolerò, li renderò felici senza afflizioni vedete fratelli questo canto di fedeltà deve risuonare sempre nel nostro cuore ma questo canto ci deve anche stimolare a tornare al Signore con tutto noi stessi tanti oggi si stanno allontanando al Signore cercando salvezza, aiuto, soccorso, conforto in altre al di fuori di Lui è ingannevole uno solo il nostro Salvatore e nel Vangelo la Chiesa ci presenta l'episodio di Gesù che va in Libano e qui questa donna cananea va da Gesù a imbrorarlo per sua figlia ma lei è pagana, non è uno servante della legge di Mosè, non fa parte del popolo di Dio e Gesù dice quindi non posso dare il pane dei figli ai cani ma lei però si avvicina, si prostra davanti a lui e dice il Signore aiutami e Gesù appunto li manifesta non la sua volontà di non soccorrerla ma vuol provocare la sua fede e gli dice appunto non si può dare il pane dei figli ai cani ma lei è vero Signore eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni allora Gesù le replicò Donna, grande, è la tua fede avvenga per te come desideri ma lei è pagana, è Gesù ha consente, Dio soccorre chiunque si rivolge a lui con fiducia ricordate l'episodio di padre Emiliano Tardif che durante una preghiera di guarigione annunciò quella donna guariva dal tumore al seno all'utero e nessuno lette testimonianza ma giorno dopo quella donna si presentò dicendo io sono musulmana ero fuori dal recinto della riunione ma Dio aveva scavalcato il recinto e l'aveva raggiunto il suo cuore era aperto a Dio e Dio si manifestò e la guarì chiunque tu sia fratello e sorella Dio ti sta amando grazie Signore per questa grande misericordia che tu riversi verso i tuoi figli tu ci ami di amore eterno per questo ci usi ancora in pietà per questo ci rimani fedele edifica la nostra vita Signore su questa solida roccia del figlio tuo Gesù Cristo che per noi è dato se stesso e ha lasciato che gli uomini lo inchiodassero alla croce per rimanerci eternamente fedele a lui salga la nostra lode e la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima guidaci verso il figlio tuo Gesù Cristo tu hai sperimentato l'eterna fedeltà di Dio e ora che vivi nella gloria insieme al figlio Gesù Cristo tu manifesti a noi questa eternità dell'amore del Padre e del figlio tuo Gesù Cristo donaci di scoprirlo donaci di essere edificati in Lui e di rimanere solitamente fissati in Lui anche in mezzo alle tempeste di questo mondo e anche se abbiamo errato anche se abbiamo sbagliato sappiamo che Lui ci riedifica santamente nel suo Tempio Santo donaci di entrare in questo Tempio d'amore e di dimorarvi per tutta la nostra vita fino a raggiungerlo in cielo nell'eternità a Gesù gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e la grazia del Signore fratelli vi avvolga totalmente vi edifichi solidamente su questa roccia dell'eterno amore di Dio e vi faccia sovrabbondare di tutti i Suoi beni e oggi dia soluzione anche ai nodi che incontrate sul vostro cammino perché il Signore in questo è glorificato nel vostro bene Amen Grazie a tutti i suoi amore di Dio